Quest'oggi succederà che ci saranno le prime vaccinazioni in farmacia, la nostra farmacia non sarà la prima a vaccinare perché ci sono altre farmacie di Nasda 3, 1, 2, 3, 4, 5 che vaccinano anche la mattina. Prima che arrivi il medico inizieremo la preparazione e la prepareremo qui in tutta sicurezza e in tutta sterilità e io e la mia collega inizieremo a preparare le 10 dosi che i medici inoculeranno ai 10 pazienti già prenotati presso il nostro hub farmacia. Sicuramente prima in Italia non lo sono mai state e non lo siamo mai stati come farmacie, quindi questo qua sicuramente è un grandissimo onore e un grandissimo pregio. Dobbiamo ringraziare innanzitutto Federfarma Genova e l'Unione Ligue che si sono così prodigati affinché tutto questo potesse diventare realtà. E adesso dobbiamo soltanto essere concentrati, positivi e sperare assolutamente che questa campagna vaccinale abbia i risultati richiesti. Avete avuto una risposta del pubblico quando hanno saputo che voi farete le vaccinazioni? Sicuramente è aumentata molto la richiesta e le telefonate per sia la prenotazione sia per la metodologia che noi seguiamo per l'inoculazione del vaccino stesso. Però pensavamo sinceramente un pochettino di più, ma è il primo giorno, quindi il primo giorno magari anche l'informazione era inferiore, ma siamo sicuri che riusciremo a portare avanti la campagna vaccinale con tutte le dosi che Alisa ci ha dato da inoculare. Quante sono? Per la nostra farmacia sono 30, parlo sempre di dosi settimanali e invece per le altre farmacie è in base alla richiesta, quindi il totale precisamente non lo so, noi pensiamo a gestire bene le nostre come tutti gli altri farmacisti penseranno a gestire al meglio le loro. Venite con fiducia in farmacia? Assolutamente, venite in assoluta sicurezza e fiducia in farmacia perché siamo degli operatori sanitari preparati e teniamo la vostra salute, quindi venite assolutamente e non abbiate paura di nulla. Grazie. Grazie.